Nazioni Unite Cristo all'ONU di VB Cristo si manifestò all'ONU per mettere un po' d'ordine nel mondo degli uomini. Scelse l'organizzazione delle Nazioni Unite perché quello era il modello di governo che più si avvicinava al futuro evolutivo della Terra. Dapprima il Cristo fu trattato come un probabile terrorista dagli addetti alla vigilanza. Non fu riconosciuto nel medium attraverso cui si manifestava, come era successo duemila anni fa, quando il medium era l'Uomo Gesù. Solo dopo qualche ora gli addetti alla vigilanza, bersagliati dal sarcasmo dei giornalisti che sostavano all'entrata del Palazzo di Vetro, cominciarono ad avere dei dubbi. I giornalisti che sapevano molto della vita in quell'uomo alto e ascetico non vedevano un terrorista ma un signore distinto che parlava l'inglese perfettamente. Gli addetti alla vigilanza chiamarono il dirigente delle relazioni con il pubblico che scese dai piani alti del Palazzo, credendo di essere disturbato per le intemperanze di uno squilibrato. Ma quando fu davanti al Cristo, rimase anche lui soggiogato da quello sguardo potente eppure dolcissimo. Chiese al Cristo le sue credenziali, ma questi non rispose e prese a camminare verso gli ascensori che conducevano ai piani superiori. Il dirigente lo seguì, a sua volta seguito da un nugolo di giornalisti e di addetti alla vigilanza. Il Cristo li distanziava con i suoi passi che sembravano non toccare i marmi del palazzo. Giunse davanti agli ascensori ma proseguì per le scale. Raggiunse il primo piano, quello delle assemblee. Qui un giornalista gli si parò dinanzi e gli chiese «Perché non permetti a nessuno di seguirti, se è vero che dicesti, abbandonate tutto e seguitemi». Il Cristo guardò il giornalista come la sua immagine in uno specchio e disse «Io non intendevo dire abbandonate i vostri beni materiali, perché la ricchezza o la materia non portano a corruzione, ma a evoluzione, altrimenti la ricchezza e la materia non avrebbero motivo di esistere. L'abbandono deve essere di voi stessi, del vostro io, che si rivolge sempre verso voi stessi. «Voi dovete spogliarvi del vostro egoismo, che vi veste come corazze e nudi, dovete farvi attraversare dal dolore degli altri. Ma chi ci riesce?» chiese il giornalista. «Ci riesce l'uomo liberato, che è tale perché ha compreso». Poi il Cristo proseguì nel lungo corridoio che conduceva nelle grandi assise, dove si riuniscono i rappresentanti di tutto il mondo. Lo precedevano altri giornalisti, che brandivano i microfoni sul suo viso. Un inviato del Washington Post, forte dell'impero mediatico che rappresentava, fu arrogante. «Tu più che il Cristo, sembri un povero Cristo», disse. «Io sono lo stato di coscienza che voi raggiungerete», rispose il Cristo. «Vengo severo e buono, ma non vengo per offendermi e non vengo per condannare. Giungo per parlare, ma sono silenzio. Giungo per tacere, ma sono parole. Giungo a voi, popoli tutti della terra, non come un uomo, ma come tutti voi. Io parlo e promulgo la mia legge, nuova per scandalizzare coloro ancora legati a canoni di pensiero logori come le loro parole. Per costoro, meglio sarebbe che fossero muti, per non creare attrito con la legge». Grazie.